Facciamo un gioco, chiamate da queste immagini il cunin in cin secondi, pronti? Die! Il cunin ha l'è qua, l'ho avviso chiamato? Bravi! E il crocodile? Tu la isal. Chiatai lui in cin secondi. Pronti? Die! Velu cacale! Chiatai il cumo in cinque secondi il leum. Pronti? Die! Urm beenFE! Belu caccale il leum. L'ho avviso chiatat? Bravo Nums! escrever